18 dicembre 2019 in diretta dalla zona di spinetto guardate che bella ragazzi questa zona una zona ormai particolare andando verso la certosa troviamo come vedete questo meraviglioso pesce spada che già abbiamo visto in altre occasioni perché ci ricorda piazzale azzaria infatti la pescheria si trovava lì e adesso si è spostata in questa zona che secondo me è più bella perché c'è più passaggio la gente si può fermare adesso in diretta entriamo a dare un'occhiata ed è concentrati nella pescheria mazzotta fish guardate ragazzi che belli dio partiamo dai suoi gelati che sono della soft di crocchio è anche una marca molto conosciuta poi ci sono le bonduelle vedete i vari minestroni quindi qua c'è veramente da impazzire per la scelta soprattutto prodotti di qualità neccon vedete ma che infisce un'altra marca famosa e poi vedete anche i polipi altri tipi di pesci invece di qua c'è tutto per quanto riguarda i nostri risotti adesso che arriva natale mi raccomando venite qui da mazzotta fish a fare degli acquisti vedete ci sono le vongole e poi guardate questo abbinamento zucchine gamberetti quindi questa è un'altra chicca di questa pescheria come vedete i pavimenti che sono bellissimi e sullo sfondo un sacco di piedi che camminano giustamente quasi lavora per farvi felici adesso andiamo ai preparati guardate che meraviglia vedete ci sono le seppie ripiene e fatte anche a regola d'arte perché l'occhio vuole la sua parte guardate ma messo anche i pomodorini quindi va premiata anche la creatività di chi ha fatto questa composizione quindi il salmone affumicato invece adesso passiamo al pezzo forte che è proprio il pesce fresco abbiamo i totani le vongole guardate che orate meravigliose si vede proprio da come brillano che sono proprio freschissime e poi lì sullo sfondo c'è il nostro amico pesce spada che ormai lo conosciamo tutti perché un pesce molto rinomato ma la mazzotta fish venite perché quel pesce spada van ruva entro ora verrà venuto invece qua come prodotto c'è il baccalà mi raccomando venite a trovarli sono aperti dalle 7 alle 1 e poi pomeriggio fino a tanta serata guardate anche sullo sfondo quanti fiori perché il negozio è stato inaugurato da poco e già i serresi vengono qua adesso io non posso riprendere tutte le persone che ci sono perché c'è la fila di gente che sta acquistando il pesce giustamente per privacy non vogliono essere ripresi ma comunque ci sono 19 persone adesso quindi mando un saluto a tutti coloro che stanno acquistando il pesce in questo momento venite a trovarli mazzotta finisci dove la qualità è di casa